L'ACT, pronunciato come parola unica, è l'acronimo di Acceptance and Commitment Therapy e fa riferimento a un moderno approccio terapeutico cognitivo comportamentale evidence-based che ha ormai più di 20 anni dall'uscita del primo volume del 1999 di Hayes, Strausserl e Wilson ed è frutto di ben più di 40 anni di ricerca di base. Volendo dare una definizione moderna dell'ACT e facendo riferimento ad esempio al manuale del terapeuta ACT, di cui ho avuto il piacere recentemente di curare personalmente la traduzione e l'edizione italiana, potremmo dire che l'ACT è un intervento psicologico basato su principi comportamentali ed evoluzionistici moderni che includono la Relational Frame Theory e che applica processi di mindfulness e accettazione, processi di impegno e cambiamento comportamentale al fine di creare e favorire flessibilità psicologica nella persona. Cosa intendiamo per flessibilità psicologica? Intendiamo il processo di contattare pienamente il momento presente, come esseri umani coscienti, di stare qui e ora mentre facciamo esperienza, siamo disponibili e abbracciamo attivamente e consapevolmente le nostre esperienze private, inclusi quei contenuti, quelle emozioni, quei sentimenti anche spiacevoli che possono emergere a seguito della nostra storia personale, senza tentativi inutili di cambiare o modificarli, soprattutto quando fare questo è costoso nel lungo termine per la nostra persona. Intendiamo una disponibilità, un'apertura presente e consapevole al servizio dei valori scelti dall'individuo, di ciò che è significativo e importante per noi, allo scopo di aiutare le persone con cui lavoriamo a creare una vita veramente piena e significativa. L'ACT non è quindi una tecnologia specifica, bensì un vero e proprio modello, fondato su solide basi empiriche e teoriche, che vanta più di 40 anni di ricerca e più di mille studi e centinaia di pubblicazioni. La Division 12 ha riconosciuto l'ACT come trattamento evidence-based in vari contesti. L'ACT offre un modello dei processi psicopatologici che trascende le tradizionali categorie di adenostro e presenta un modello dei processi di salute e di intervento che è naturalmente collegato al funzionamento umano più in generale, alla crescita positiva e al potenziamento della persona. Quello che amo di più dell'ACT è che innanzitutto mette al centro del processo terapeutico non un sintomo o un comportamento problema, ma la persona stessa, le proprie direzioni, i propri valori e l'aiuta a dare significato a ciò che sente veramente importante per lei. Un secondo aspetto è che offre una lettura della sofferenza umana all'interno di una prospettiva trastiagnostica, che considera fondamentali e comuni processi mentali sia alla base del benessere che della sofferenza psichica. Infine, un aspetto che amo dell'ACT è la solidità scientifica, il fatto che ci siano alla base più di 40 anni di ricerca e che ci sia una solida e attiva associazione scientifica, l'Association for Contestual Behavioral Science, un'associazione di ricercatori, amici, che come in una grande famiglia ha scelto di condividere le proprie esperienze, i propri studi, le ricerche a livello internazionale, collaborando quotidianamente al progresso della scienza di base allo sviluppo delle applicazioni terapeutiche e sociali nelle scienze comportamentali contestuali, con il fine ultimo di ridurre la sofferenza umana e far progredire il benessere delle persone.